Si chiama Alex, il progetto formativo e di diffusione della cultura scientifica che coinvolge 40 allievi e docenti del liceo scientifico statale Dante Alighieri di Matera. I temi e i settori coinvolti nel progetto, clima e ambiente, scienza della vita di tutti i giorni. Il percorso, incentrato su laboratori e workshop, punta a diventare un esempio di buone pratiche nell'acquisizione di conoscenze delle scienze applicate e favorire rapporti con strutture di ricerca. Il progetto Alex intanto si inserisce nell'ampliamento dell'offerta formativa del liceo scientifico Dante Alighieri e grazie al contatto del dottor Cilla, consulente scientifico del progetto, abbiamo avuto la possibilità di portare qui nel nostro liceo il docente ordinario dell'università di fisica, il new yorkese astrofisico Steve Shore. Con lui stiamo condividendo alcune giornate di lavoro, mi riferisco al periodo dal 18 al 21, giornate affidate ai ragazzi del nostro liceo e contemporaneamente sono stati coinvolti i docenti dell'area tecnico-scientifica. Il progetto Alex permetterà ai ragazzi di approfondire temi e percorsi in altri contesti, offrendo la possibilità di accrescere orientamento e scelte nel rapporto tra scuola, ricerca e mondo del lavoro. Le attività del percorso formativo sono coordinate dal dirigente scolastico Vincenzo Duni e dal referente del progetto Domenico Briamonte, docente di matematica e fisica dell'istituto. Grazie. Grazie.